Vanity Fair Italia è un famoso sito web che copre una vasta gamma di argomenti, tra cui notizie di attualità, moda, cultura, cinema, musica e lifestyle. Il sito presenta un design moderno e accattivante, con una facile navigazione e una struttura ben organizzata. Dal punto di vista dei contenuti, Vanity Fair Italia offre una vasta gamma di articoli ben redatti, informativi, che spaziano da reportage alle interviste esclusive. Gli articoli sono scritti in modo coinvolgente, con uno stile giornalistico, accattivante e una buona dosi di analisi e approfondimento. Uno dei punti di forza di Vanity Fair Italia è la sua sezione dedicata all'intrattenimento e alle celebrità, con aggiornamenti regolari sulle ultime notizie di Hollywood e, inoltre, il sito presenta recensioni di film, serie tv, musica e libri. Tuttavia, un punto debole del sito è la presenza di numerosi contenuti sponsorizzati e pubblicitari, che a volte possono risultare invadenti e ridurre la qualità dell'esperienza dell'utente. Inoltre, il sito potrebbe migliorare la sua copertura di determinati argomenti, come la politica e l'economia, che spesso ricevono meno attenzione.